Come aumentare così gli FPS su God of War Ragnarok? Ovviamente è possibile aumentare gli FPS, aumentare le prestazioni e ridurre così il lag sul gioco grazie alle impostazioni e ai settaggi di Nvidia e soprattutto grazie anche al programmino molto utile che usavo sempre su Fortnite per aumentare gli FPS, il programma Nvidia Profile Inspector. Ma prima di fare questo andiamo un attimo a svuotare un po' i file temporanei, file che rallentano così il nostro computer. Quindi in questo caso vai direttamente su Esegui, scrivi qua sopra %temp%, entriamo così nella cartella e cancelliamo tutti questi file che non ci servono e facciamo continua. Assicurati anche di cancellare i file temporanei sul tuo sistema attraverso file temporanei, elimina file temporanei. Clicca su file temporanei, aspetta così l'analisi. Ci sono 525 MB di file temporanei e poi eliminare, dipende anche da te se hai 10 GB o 15 GB di file temporanei. Uso anche un'applicazione per aumentare le prestazioni su Windows grazie al programma PC Manager che trovi in descrizione, faccio boost. Aumenta così l'uso della memoria RAM, diciamo le prestazioni della memoria RAM e elimina un paio di file temporanei. Una volta fatto questo andiamo un attimo sul pannello di controllo di Nvidia, tasto destro sopra, pannello di controllo Nvidia che ti ho lasciato in descrizione oppure se lo tieni già perché hai scaricato il programma Nvidia per aggiornare la tua scheda grafica allora lo tieni già installato sul tuo computer. Vai su gestisci le impostazioni 3D, impostazioni programma, una volta fatto vai su aggiungi, sfoglia e andiamo così a prendere il nostro God of War Ragnarok. Ovviamente devi entrare nella sua cartella e prendere il nostro God of War Ragnarok.exe e fai apri. Una volta fatto c'è il ridimensionamento immagine che sarebbe la nitidezza, noi non ci serve la nitidezza alta, se no lagghiamo ancora di più. L'antiales correzione gamma mettiamo disattivato, questo qua mettiamo disattivato, per ora ci facciamo consigliare da Nvidia, qui c'è scritto migliora l'impostazione dell'applicazione oppure escludi qualsiasi impostazione dell'applicazione. Noi andremo a mettere disattivato, il buffering triplo vai a mettere disattivato, scendi fino a giù fino a trovare il filtro anisotropico, metti disattivato, filtro struttura, consenti, filtro struttura, ottimizzazione campione disattivato, filtro struttura, ottimizzazione trilineare, metti disattivato. Filtro struttura qualità vai a mettere prestazioni elevate. Questo no, questo fotogrammi massimo, metti attivato e puoi anche impostarlo fino a 1000 FPS, ma è un modo per dare una mano in più, quindi un supporto in più. Frequenza fotogrammi massimo applicazione, questo lo puoi saltare. Modalità bassa latenza metti ultra. Modalità digestione dell'alimentazione, questo è anche per quelli che usano i portatili, metti potenza ottimale. Ottimizzazione con i triat, metti automatico. Sincronizzazione verticale, visto che non dobbiamo bloccare gli FPS, dobbiamo aumentarli, quindi dobbiamo mettere gli FPS illimitati. Tecnologia monitor, metti compatibilità G-Sync, se il tuo monitor supporta così questa modalità o FreeSync o G-Sync, velocità di aggiornamento preferita, metti la più elevata disponibile. Una volta fatto applica più volte, finché non si applica così queste nuove impostazioni. Una volta fatto, puoi anche impostare il G-Sync sul tuo monitor, quindi abilità G-Sync, compatibilità G-Sync, ed eccola qua, io l'ho già abilitato e fai applica. Chiudiamo un attimo questo pannello di controllo e andiamo su grafica, impostazioni grafica. Come ho detto, vai su sfoglia, entri così nella cartella del gioco e vai a prendere il God of War Ragnarok.exe. Scendiamo fino a giù, trovare God of War, eccolo qua, prestazioni elevate, opzione, scegli così la tua scheda grafica 1662, prestazioni elevate, fai salva. Ovviamente, aggiorna anche i driver della tua scheda grafica per non avere problemi di crash o lag, grazie anche al programma NVIDIA App su driver. Cerchi così gli aggiornamenti, installa e aggiornerai così la tua scheda grafica NVIDIA. Tasto destro su Start, gestione dispositivi. Chiede grafica, la tua scheda grafica, c'è una driver, cerca i driver, scegli da un lengo di driver disponibili, metti il primo, fai avanti e installi così i driver per il tuo sistema. Ora, passiamo direttamente alla parte del programmino NVIDIA Profile Inspector, che ti ho lasciato in descrizione come file media file. E tu ci clicchi sopra, vai a scaricare il pacchetto RAR, quindi è un pacchetto RAR, questo qua, tasto destro sopra, e devi estrarre il pacchetto RAR come la cartella, questo qua giallo. Quindi tasto destro sopra, estrai i file in NVIDIA Profile Inspector. Entri nella cartella di NVIDIA Profile, ci clicchi sopra, ed eccolo qua. Andiamo su God of War, God of War Ragnarok, ed eccolo qua. Scendi fino a giù, dobbiamo solamente fare tre impostazioni, quindi dobbiamo modificare tre impostazioni. Vediamo, questo no. Questo qua. Anti-aliasing, trasparenzi, super sampling, questo qua, super sampling, questo qua. Ci clicchiamo sopra. Se impostiamo questo qua che finisce per 0,8, riduciamo un po' la grafica della texture. Vi consiglio il 0,4. Ovviamente puoi anche fare dei test su God of War Ragnarok. Puoi anche mettere il 100 e la grafica veramente si vedrà malissimo. La grafica si vedrà malissimo se imposterai il 100. Ti consiglio il 0,8. Scendi fino a giù fino a trovare il texture filtering. Metti più 2.7500. Stessa cosa anche con l'OpenGL. E basta. E fai applica. Applica più volte le impostazioni. Se non ti piacciono queste impostazioni, clicca qua sopra e ripristini il gioco. Ovviamente devi farlo con God of War Ragnarok chiuso. E poi clicchi qua sopra per ripristinare tutte le impostazioni. E chiudi qua. Ovviamente questi metodi li ho mostrati parecchie volte su Fortnite e altri giochi come Call of Duty, Apex e molti altri giochi. E gli FPS aumentavano sempre, però la grafica lo ridotta di un bel po'. Quindi grazie a tutti per questa visione. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao.